Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di una forza politica che è riuscita in poco più di un anno a perdere 50 parlamentari e a perdere il 60-70% del suo elettorato, ma loro adesso puntano al 20%. 20 senatori e 30 deputati tra AD ed espulsioni e la fotografia di un partito in caduta libera, una crisi senza fine, una crisi di identità, hanno disatteso tutto quello che avevano promesso allora elettorato. Ah sì, hanno fatto una cosa, il reddito di cittadinanza che si è dimostrato poi fallimentare, è diventato solo più che un reddito di cittadinanza alla francese, alla Lady Oscar, è diventato un reddito minimo in un paese che non se lo può permettere. Assistenzialismo che ha portato che cosa? Per mantenere quelle milioni di persone sono state ovviamente aumentate le tasse l'anno scorso. Non so se vi ricordate. Abbassate le tasse per 2 miliardi e mezzo e il governo inneggiava. Abbiamo abbassato le tasse. Sì, aveva abbassato le tasse di 2 miliardi e mezzo e alzate di 7. 7 meno 2 e mezzo vuol dire 4 miliardi e mezzo di saldo positivo di aumento delle tasse in mille rivoli difficilmente decifrabili. Quindi aumentate le tasse a tutti per abbassarle a un certo numero di persone, lavoratori dipendenti entro un certo stipendio. Questa è la realtà. Sono state aumentate le tasse per tutti. Quei 4 miliardi e mezzo vanno a coprire gran parte del reddito di cittadinanza che costava 6-7 miliardi. adesso con la crisi economica sono molti di più quelli che chiedono questo sussidio, questa assistenza, questo mantenimento statale. Diciamo che dalla protesta alla proposta, che cosa vuol dire? Dalle elezioni politiche del 2018 trionfarono, diventarono la primo partito con il 32,7%. 32,7. Un sondaggio di due giorni fa li davano al 12,7. Siamo esattamente a un 20% di perdita. Eletti con un record, 333 parlamentari a Montecitorio, 333 parlamentari in totale, 221 a Montecitorio e 112 senatori. Uno squadrone a rappresentare e a cercare di realizzare le promesse fatte. Ma tra addie ed espulsioni sono scesi a 191 deputati a Montecitorio e 92 senatori. C'è chi ha cambiato casacca, chi ha riempito le caselle di tutti i partiti presenti in Parlamento. Questi sono i numeri che danno una fotografia delle conseguenze di una crisi all'interno di questo partito sempre più forte. Parliamo di partito, sì. Movimento è il nome, movimento. Questo è un movimento, non è un partito. No, è un partito. È un partito come tutti gli altri. Eh, ma non ha le sedi, è tutto virtuale. Eh, beh, sempre partito è. Chi se ne frega che non abbia le sedi. Una crisi di politica, una crisi di identità, sono passati dai vaffa nelle piazze al governo dello stipendio. Questo è un governo dello stipendio. È il governo dell'accredito dello stipendio. Come diceva un 5 Stelle fu riuscito già da qualche tempo, diceva questo è un Parlamento, è una democrazia, è una democrazia fondata sul mutuo del parlamentare. Non c'è definizione più azzeccata. Una democrazia fondata sul mutuo del parlamentare. Hanno poi avvallato tutte le opere antisistema. TAP e TAV su tutto. No TAV, no TAP, no Alpitur. Hanno disatteso il loro elettorato. Sempre e comunque. Cosa hanno vinto? Poi c'è un'altra battaglia che hanno vinto insomma. Il taglio dei parlamentari. Quella cosa populista che alla fine comporta un risparmio di 100 milioni all'anno ma che rispetto alla contabilità statale è un niente. Tenete presente che solo hanno stanziato il doppio come bonus monopattino. Il doppio. 220 milioni di euro come bonus monopattino e il risparmio del taglio dei parlamentari è 100. Rispetto alla contabilità dello Stato è nulla. Sono quelle cose che si dicono populiste, che fanno colpo sullo Stato, sul popolo, sugli elettori, ma che realmente sono delle cose che non hanno poi un impatto su nulla. Ecco. Certo, sempre meglio risparmiare qualcosa che pagare questi 100 milioni in più. Poi c'è la crisi dell'Associazione Rousseau, di Casaleggio. Lui che adesso è contro. Contro cosa? Contro un movimento che è diventato quello che vi raccontavo. Lui è per il ritorno alle origini, è per non cancellare il vincolo del secondo mandato, mentre ai 5 Stelle quello che interessa realmente è cancellare quella sciocchezza del vincolo del secondo mandato. Ma cos'è il Movimento 5 Stelle oggi? Che cosa sarà? Ci sarà una risurrezione politica? Il nostro orizzonte è quello del 20%, confidano a un giornale alcuni esponenti. Il traguardo a cui possiamo e dobbiamo puntare con umiltà. In realtà io credo che quando questo governo non ci sarà più e cancelleranno il reddito di cittadinanza, perché saranno delle prime cose che cancelleranno, sicuramente il loro elettorato crollerà. Perché adesso chi sostiene nel Movimento 5 Stelle? I clienti del reddito di cittadinanza. È una sorta di voto di scambio. Io ti do il reddito di cittadinanza e tu mi voti? Beh, tu mi voti per forza, perché se mi mandano via cancellano anche il reddito. E così poi all'interno c'è scontro tra governisti, ribelli. Di Maio è il capo dei governisti, il capo di quelli che sostengono lo stipendio. I ribelli sono quelli che hanno ancora un mandato da spendere, quindi si parla sempre alla fine di stipendi. Le liti infuriano, però anche dentro al governo. E non si sono fermate neanche. Il giorno di Natale, l'ultimo attacco, è stato sferrato da Alessio Villarosa, sottosegretario dell'economia, che nella maxi-chat grillina si è sfogato contro la mania del governo che avrebbe cancellato l'aumento delle tasse sul tabacco, riscaldato. E avrebbe detto a Cremi che gli ribatteva, ma dimentiti. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.